E' semplice, io di qua ci passo una sola volta e passare la vita davanti a un computer non mi va a me. Comunque vedi in giro tanta gente che dice no, io l'idraulico non lo faccio perché ti sporchi le mani. La cosa bella ce l'hai quando lavori a mano, devi sentire al tatto il lavoro che stai facendo. In qualche modo, cioè, tocchi il legno, passi la mano e devi sentire proprio con la pelle il movimento del legno. Mi accito molto. No, diciamo che... Questa è vista... E' un risultato che abbiamo ricevuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti